Devozione e fede per onorare la Madonna del Carmine compatrona di Riccia insieme a tradizione e religiosità si fondono per la comunità che ogni anno si riunisce per organizzare una festa secolare. Il Comitato Madonna del Carmine insieme all'amministrazione comunale e ai cittadini lavorano attivamente per garantire la festa che richiama ogni 16 luglio centinaia di riccesi che vivono fuori dal paese addirittura all'estero. Con questo si concludono i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Domani la riportiamo nella sua sede naturale che è il santuario del Carmine e ci aspettiamo tante di quella gente che ci segue e che ci ha sempre aiutato in tutte le nostre azioni. Una festa che unisce tutti, dai più piccoli agli anziani, non solo la parte religiosa che rappresenta il culmine dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, ma a Riccia si organizzano anche tanti eventi collaterali per onorare la Santa. Grazie a tutti quelli che organizzano una serie di eventi occasionali che arricchiscono il cartellone regindigioso, riusciamo a celebrarla con i tornei, con i balli, con i canti, con tutta una parte che è una corona, è un grido di gioia alla giornata religiosa. Le giornate sono costellate, queste serate sono cinque giorni di festa, sono costellate di una serie di iniziative e oggi concludiamo con quella del torneo calcistico, anche quello che ha una lunghissima tradizione, con il concerto bandistico in piazza.